Una volta che il coronavirus arrivò in Italia, ci ritrovavamo tutti dentro casa in quarantena. All'inizio mi annoiavo sempre e mangiavo in continuazione, ma a un certo punto mi venne un'idea. Perché non dare frutta a questa quarantena? Così inizia l'elizio in un libro. È molto interessante direi. Poco intanto uscivo in giardino a fare due tiri al canestro. Dopo un po' rientravo perché faceva freddo. Inoltre aiutai molto mia madre con le pulizie di casa. La scuola online era molto diversa da quella a cui eravamo abituati di solito. Ovviamente con meno compiti e molto meno pesante, però in fin dei conti mi mancava la scuola vera e mi mancava soprattutto rivedere i miei amici. Adesso tutto questo è in gran parte finito e posso finalmente andare a ritrovare i miei amici, ma soprattutto posso finalmente andare a fare un giro con la mia bicicletta. Spero che il coronavirus se ne vada più presto, così posso tornare tutto come prima. Il video è finito. Grazie per la visione. Grazie per la visione.